Dico con piacere per l'ennesima volta, è veramente un piacere, veramente un onore, due grandi personaggi che ormai sono diventati all'arribata della proraca tanghera, tutte le cose che fanno, tante sorprese anche, piacevoli sorprese, oggi c'è stato un mega seminario, allora devo aprire una parentesi, grazie grassi, eccola lì perché ha fatto un lavoro in queste settimane, ma la tecnica maschile con la nostra Maria è 14-15 uomini, non si è mai visto neanche curare, l'applauso per Giappiero Gatti e Maria Filani che si sa per noi, grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie.